Castelli aderisce a questa importante iniziativa promossa dal Club dei Borghi più belli d'Italia. Il programma per Castelli inizia alle ore 18 con la visita guidata al Borgo, al Museo delle Ceramiche, al Liceo Artistico per il Design Francesco Antonio Grue che include il famoso presepe monumentale e la raccolta internazionale d'arte ceramica. E termina poi allo splendido soffitto maiolicato della chiesa di San Donato risalente al 1600. Abbiamo chiamato questo percorso l'amore per l'arte perché appunto il romanticismo abbiamo voluto intenderlo anche come riscoperta delle arti e della cultura. Poi alle 20 ci sarà la cena romantica nei ristoranti con menù dedicato e alle 22 presso la piccola chiesa di San Rocco ci sarà un concerto acustico del teatro mediterraneo chiamato Amore e Amore. Alle 23.30 presso Piazza Roma, nella piccola loggia di Piazza Roma, ci saranno le brindisi degli innamorati. E alle 24 poi ci sarà il lancio delle lanterne come vuole, insomma, il programma, come da programma nazionale in tutti i borghi. Ci piace immaginare che in quel momento tutti i borghi più belli d'Italia lanceranno al cielo le lanterne illuminate e sarà effettuato sul belvedere di Castelli con la splendida vista verso il Gran Sasso. Poi voglio ricordare le selfie del borgo romantico da postare su Instagram che prevede in paglio un viaggio, un weekend romantico per il vincitore di questo concorso.